Alla città dei robot nel parco delle dell'Andia, 500 bambini di alcune case famiglie napoletane saranno ospiti dell'organizzazione della mostra per conoscere e sperimentare il mondo della cibernetica con automi che svolgono compiti domestici, realizzano manufatti di precisione, interagiscono con la parola o simulano il comportamento animale. Ci sono bambini piccoli dai 4 anni fino a bambini di 14 anni. È una grande opportunità di conoscenza perché i robot potranno entrare nella nostra vita, potranno aiutarci a rieducare i nostri figli, a leggere un libro oppure un cane che potrà essere l'amico di un bambino che ha delle difficoltà di instaurare dei rapporti. La città dei robot è una mostra interattiva che potrà essere visitata fino al prossimo 5 giugno. Innanzitutto potranno toccare con mano i robot e già questo mi sembra un oltrepassare una barriera, non li vedranno soltanto ma ci interagiranno. Per cui abbiamo visto i bambini fare delle domande in inglese, accarezzare il cane robot e loro si sono divertiti tantissimo. Con i nostri bambini noi abbiamo dato la possibilità di conoscere un mondo che è molto vicino alla nostra società e che può essere una grande opportunità.